La professoressa Geno di Filologia e Romanza all'Università di Parma quando chiedeva qualcosa su Dante agli allievi diceva sempre mi dica cosa dicono le parole Alan Alfieri bisogna anche chiedersi della spontaneità delle cose, se esiste un bosco delle cose il corpo è espressione di identità culturale quando io dico che devo parlare o rendere visita a Alan Alfieri anche persone avvezze all'arte o alla pittura annuiscono e mi confermano che l'immaginario è collettivo conoscono benissimo la sua elaborazione della realtà in una specie di autobiografismo messo al servizio di un interesse generale un suo quadro non stona a casa di nessuno dipingere, dipingere, dipingere alle tinte che vuoi quello che è un attraversamento di una parte di mondo Morsoeschi è una mostra a Parigi dove c'è uno scarpone dei nostri vecchi detto in italiano che assomiglia a Berceto è uno scarpone rabberciato ed è in mostra a Parigi Morsoeschi significa pezzi squisiti se l'anima è bisognosa di gioia, collo e desiderio come dice la Bibbia è una pittura stringata quella di Alan senza inutili spessori naturalmente misurata ma che era densa essenziale per rappresentare quello che è invisibile agli occhi la risonanza emotiva e la delicatezza del pudore è un'altra parte